Dopo la sentenza del Tar che ha bocciato la Regione, il Codacons prosegue la battaglia per il ritorno in classe in presenza. Nel mirino dell'Associazione dei Consumatori sono finiti circa 70 sindaci campani che hanno previsto la didattica a distanza. A 696 TV il Vice Secretario Nazionale Matteo Marchetti fa sapere che proprio in queste ore è partito il primo esposto in procura, con la denuncia della fascia tricolore di Durazzano nel Sannio. Ieri sembra risultassero una settantina di comuni. Noi abbiamo stilato un primo elenco tra i 40 e i 50 comuni che hanno tenuto chiuse le scuole e adesso partiremo, previ analisi ovviamente, con singole denunce alle Procure della Repubblica competenti. Già le nostre sedi sul territorio, per esempio posso dire che la sede di Benevento è già partita nei confronti di un comune e quindi si andrà avanti perché per noi esiste il reato di interruzione di pubblico servizio. E se poi siamo tutti quanti dalla stessa parte ovviamente è più facile combattere queste forme proprio di abuso. Intanto resta sempre alta la tensione sul fronte scuola. Come altrove in Campania, gli studenti delle scuole superiori di Salerno hanno disertato le lezioni e consegnato un appello al prefetto. Abbiamo notato che c'è molta tensione nei ragazzi e che la situazione della scuola è ormai diventata precaria. Classi pollaio, trasporti affollati, alti contagi, sono tutti elementi che ci hanno spinto a fare questa protesta. 140 docenti sono risultati assenti per Covid, mentre altri 120 per malattia e motivi personali. Quindi c'è una mancanza proprio di personale.